Una bellezza perfetta aristocratica fuori dal comune ma anche un talento straordinario coltivato con passione che le ha consentito di scalare le vette del cinema internazionale. A due anni dalla sua scomparsa, Vierna Lisi viene ricordata dal centro studi Barletta in Rosa attraverso una mostra di 60 scatti fotografici allestita negli ambienti di Palazzo della Marra. Icona di stile ed eleganza, la grande attrice nata ad Ancona nel 1936 era l'antidiva del cinema italiano, amata dal pubblico per il suo carattere energico, il rigore morale, l'attaccamento alla famiglia più che per i suoi profondi occhi azzurri. Due David di Donatello, Seinastri d'Argento e il premio per la migliore interpretazione femminile conquistato a Cannes spiegano solo in parte una carriera costellata di successi ma fatta anche di scelte difficili come quando sbarcò ad Hollywood negli anni 60 e dopo i primi importanti successi cinematografici decise di lasciarsi alle spalle quel mondo dorato che voleva mortificare il suo talento per fare ritorno in Italia e proseguire la sua luminosa carriera in Europa. Con questa mostra, dicono gli organizzatori, abbiamo voluto celebrare la bellezza ma anche la sobrietà di una donna che per più di 50 anni ci ha regalato grandi emozioni attraverso il cinema e la televisione. Noi vogliamo ricordarla nell'essenza più pura della sua bellezza con 60 scatti fotografici concessi dalla famiglia e delle rilaborazioni su pannello di gigantografia che sono meravigliose. Uno spazio della mostra sarà dedicato alla visione dei trailers dei suoi film più famosi perché anche i più giovani, dicono ancora gli organizzatori, possano imparare a conoscere una delle più grandi artiste del cinema italiano. Virna Lissi ha dimostrato in anni di carriera di essere stata, come definita dalla Comencini, una grande sorpresa per il cinema italiano ma anche per la vita delle donne italiane perché è una donna molto bella, una donna che ha saputo interpretare i ruoli più disparati rendendo al massimo quella che è la femminilità e quello che è l'orgoglio di essere donna ma soprattutto ha dimostrato che anche una donna di spettacolo può essere una brava moglie o un'ottima madre, ultimamente anche una splendida nonna.